Verze e legumi, intanto se non era per ciccio tu chissà a quest'ora dove stavi. Encore une fois ? A proposito, la mia entrée come l'hai stabilita ? Che cosa ? Che bella entrata. Avanti. Ciao, Gardè. Che c'è ? Amore, posso entrare ? Vieni, vieni. A lei hai fatto il vestito, io che cosa mi metto ? Poco, pochissimo. E che cosa faccio ? Niente, perciò sei perfetta. Dovrei sofferti.